This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Marco De Luca, la foto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre parli con me, sorridi. Mentre parli, sorridi. Mentre mi guardi. Sorridi. Mentre mi guardi. Sorridi. Sorridi. Mentre mi parli. Chissà se scriveranno mai quel libro che dicevi su come dirsi addio nel miglior modo. Un'enciclopedia che descriva situazioni per congedarsi senza fare errori. Con procedure chiare per poter dimenticare è questo che dovrebbero inventare. Se dirti addio non mi è piaciuto. Oh, chissà perché non l'ho capito. Mi servirebbe quel libro potrebbe essermi d'aiuto un'enciclopedia del saluto. Meglio che io sia libero da te e dall'idea di noi che ho costruito. Tra ciò che si vorrebbe e ciò che si vuole per davvero ci sono lacrime di incompatibilità. Con procedure chiare ti potrei dimenticare è quello che dovrebbero inventare. Se dirti addio non mi è piaciuto. Oh, chissà perché non l'ho capito. Mi servirebbe quel tuo libro potrebbe essermi d'aiuto l'enciclopedia del saluto. Disegniamo traiettorie come linee parallele più vicine e poi lontane per poterci intersecare. Certe possono sparire altre continuare ad attirarci e dirci di tornare indietro. Se dirti addio non mi è piaciuto. Oh, sarà perché mi hai obbligato mi servirebbe quel tuo libro potrebbe essermi d'aiuto l'enciclopedia del saluto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti